Il bambino, che è un bellissimo bambino, forse non l'avete visto, e la mamma stanno bene, il papà è rimasto ancora nel posto del naufragio e si trova sulla moto vedetta. Tutti bagnati, li stiamo cambiando e spero che nel giro di qualche minuto di poterli trasferire al centro, dopo quando stanno bene. Ne arriveranno altri? Speriamo di no, è probabile comunque, è probabile, perché in un primo momento erano dieci, poi li hanno messi sulla motonave e hanno portato questi qua che hanno preso dopo. Sicuramente andranno a prendere gli altri.